Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Truffe e criminalità organizzate e riciclaggio presentato il bilancio delle attività svolte dalla Guardia di Finanza di Pesaro L'ex mulino Albani verrà abbattuto a suo posto un nuovo supermercato di oltre 1000 metri quadrati ed un parcheggio L'ex sindaco di Saltaro, Guccione, annuncia che non si candiderà alle prossime elezioni e spara a zero su Aguzzi, in corsa per le elezioni a sindaco di Colle del Metauro Una ventina di studenti tedeschi di Rastatt sono ospiti a Fano per un gemellaggio tra le scuole delle due città Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione La Guardia di Finanza provinciale ha incontrato questa mattina a Pesaro i giornalisti per fare il punto, numeri alla mano, su quelle che sono state le attività del 2016 La seguita per noi Fabrizio Naticchi La tutela delle libertà economiche di cittadini e imprese oneste per l'equità sociale e il benessere della collettività È questo l'obiettivo ribadito stamattina a Pesaro dal comandante provinciale della Guardia di Finanza Antonino Raimondo in un incontro con la stampa per fare il punto sulle attività svolte nel corso del 2016 Lotta all'evasione fiscale, all'illegalità nella pubblica amministrazione agli sprechi di risorse e alla criminalità economica in generale sono questi gli scopi principali delle operazioni svolte nello scorso anno A livello centrale e dall'interscambio di queste informazioni con i controlli effettuati sul territorio quindi le nostre azioni pur consistenti sono tutte mirate su azioni specifiche e su indici di anomalia che presentano i vari soggetti I numeri ci mostrano un'intensa attività operativa in crescita rispetto al 2015 4.300 sono stati gli interventi in un anno di attività delle fiamme gialle provinciali 45 i piani operativi attuati contro l'illegalità 255 le deleghe di indagine commissionate dalla magistratura ordinaria sono stati individuate inoltre 5 linee guida organizzative per distinguere le attività tra loro in base alla natura dell'intervento Frodi fiscali ed economia sommersa con 771 interventi e 59 indagini rese possibile grazie a 40 banche dati disponibili con un recupero patrimoniale pari a 1,7 milioni di euro Truffe su fondi pubblici e amministrazione con casi di illegittima percezione o richiesta di finanziamenti comunitari e nazionali pari a circa 320 mila euro in crescita del 30% rispetto al 2015 e 6 accertamenti svolti su delega della Corte dei Conti per danni patrimoniali allo Stato nei quali rientrano anche le truffe sanitarie e sociali che hanno visto irregolarità nel 50% dei casi criminalità organizzata cresciuta del 150% rispetto all'anno precedente e con un recupero di 9 milioni di euro di denaro riciclato traffici illeciti sono stati 58 gli interventi per reati di contraffazione e 139 i grammi di droga sequestrati con un incremento del 30% rispetto al 2015 ed infine sicurezza pubblica e controllo del territorio aspetto che sta a cuore ai cittadini che con le loro 350 chiamate circa hanno permesso alle 1460 pattugli operanti nel territorio di individuare e sopprimere gli illeciti L'ex mulino Albani verrà abbattuto al suo posto sorgerà un nuovo supermercato Percorrendo via Carlo Pisacani a Fano il tratto di nazionale nei pressi della stazione ferroviaria un fantasma industriale incombe con le sue generose dimensioni sul prospetto stradale con un ammasso di cemento, lamiere arrugginite e finestroni rotti dallo spettrale aspetto, soprattutto di notte è l'ex mulino Albani che si estende su una superficie di oltre 3000 metri quadrati tra la statale 16 e la linea ferroviaria adriatica che certo a pochi metri dal centro cittadino non rappresenta un bel biglietto d'ingresso alla città né per chi vi arriva in auto né per chi scende dalla stazione ferroviaria e si sente proiettato in un castello degli orrori ora questo residuato industriale verrà raso al suolo e troverà a posto un più rassicurante e familiare supermercato di 1300 metri quadrati e annesso parcheggio ed uno sviluppo di infrastrutture adeguate al contesto urbano dal punto di vista del beneficio del pubblico oltre a non vedere più quel manufatto degradato c'è anche quello di rendere più funzionale il nodo di scambio del trasporto pubblico attraverso una rotatoria in fondo a via Vittorio Veneto una rotatoria che consentirà anche agli autobus di entrare meglio nel nodo di scambio della stazione ferroviaria oltre a questo via Verde Pubblico vi sono marciapiedi messi in ordine quello è un punto dove queste infrastrutture sono molto sofferenti e poi viene realizzata anche una pista ciclabile è uno standard di parcheggi ad uso pubblico molto ben dimensionato quindi sì, c'è un intervento commerciale la prima fase prevede una realizzazione di 2000 metri quadri di superficie utile lorda con una proposta commerciale che ha una superficie di vendita di circa 1300 metri quadri di superficie utile lorda questa è la natura dell'intervento che è prossima io ritengo che nel giro di pochi mesi possa cominciare ad essere realizzato A Urbino invece durante i lavori di rifacimento della pavimentazione in via Mazzini sarà vietata la sosta ai veicoli su ambo i lati nel tratto compreso tra l'intersezione con via delle Stallacce e l'arco di Valbona sarà consentita la sosta esclusivamente per le operazioni di carico e scarico con disco orario di 30 minuti i residenti con sosta consentita in via Mazzini gli artigiani e i commercianti sono autorizzati a sostare a Borgo Mercatale nel tratto lungo le mura compreso fra l'arco di Valbona e il torione del teatro Sanzio la nuova disposizione sarà valida fino al 15 di maggio ed è resa necessaria per consentire alla circolazione dei veicoli che dovrà avvenire in senso unico alternato per i soli residenti e per il rifornimento agli esercizi pubblici e commerciali Fano Rastat un gemellaggio che dura ormai da più di 30 anni in questi giorni in città sono ospiti gli studenti e i professori della città tedesca per uno scambio interculturale con gli studenti italiani Fano Rastat unite da 30 anni di gemellaggio attraverso contatti umani scambi culturali e progetti artistici comuni come la Fontana Vangi e interscambi socio-economici elencare tutto ciò che in questi anni ha prodotto fruttuosi rapporti che sono andati anche oltre i colori politici le rispettive realtà economiche gli interessi di sviluppo turistico sarebbe ben difficile ma oggi nella sala della Concordia abbiamo assistito ad uno di questi poliedrici aspetti fra i più intensi e carichi di significato che si rinnova da oltre 20 anni studenti coetanei di licei per Fano gli alunni della quarta B del liceo Nonfi e per Rastat una ventina di ragazzi del liceo Wilhelm con 300 anni di storia dal 16 al 23 marzo hanno vissuto un'intensa settimana ospitati con i loro insegnanti in altrettante famiglie fanesi un'esperienza non solo culturale sottolinea l'assessore Mascarin ma anche sociale e democratica in un'Europa che tende ad alzarle le barriere anziché a batterle soprattutto negli ultimi anni la dimensione europea per quanto riguarda anche l'istruzione secondaria superiore è diventata diciamo una necessità per tutti i paesi europei lo è per la Germania come lo è per l'Italia e la possibilità in particolare per le studentesse e gli studenti che studiano le lingue di avere dei momenti di approfondimento anche didattico in altri paesi europei come in questo caso è un arricchimento che chiaramente riguarda non solo diciamo l'esperienza umana e civile che possono fare i più giovani ma anche dal punto di vista della formazione e della didattica tema trainante quindi l'Europa e i cittadini europei di domani come questi ragazzi riuniti stamattina nella sala della Concordia per il saluto ufficiale della città Sì abbiamo messo in contatto delle nostre associazioni già nel passato degli scambi tra calcio calcio amatori calcetto c'erano stati vogliamo aprirlo anche ad altre discipline anche giovani stiamo provando con il frisbee con altre realtà e questo può essere molto interessante anche per fare un confronto di come si vive l'associazionismo in altri paesi si accende la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative a Colli al Metauro nel Pesarese e come sentiremo tra poco l'ex sindaco di Saltara Claudio Uguccioni si chiama fuori dalla competizione e oltre a fare una serie di considerazioni tira una bordata all'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi che adesso è in corsa per diventare appunto sindaco dei Colli al Metauro sentiamo allora Uguccioni i tempi stringono qual è insomma l'umor locale in quel contesto così creato Colli al Metauro ma l'umor intanto che ovviamente sta nascendo un interesse su quello che accadrà da qui a giugno probabilmente l'altra elezione sarà l'11 giugno sarà almeno quelle le notizie di stampa sono queste io sono convinto che questa esperienza possa nascere una lista ripeto veramente civica veramente interessata a quelli che sono i destini del comune di Colli al Metauro con un capolista nato all'interno di questa tra queste persone che possa ambire per amministrare il comune di Colli al Metauro lei farà parte di questa lista si candiderà per questa tornata elettorale? no ovviamente questa è una lista a quale io non parteciperò nel senso che è una lista che deve essere il più nuova possibile che coinvolgendo persone anche molte di queste anche fuori dall'amministrazione possono dare anche un contributo di freschezza che tutto sommato serve all'amministrazione ecco ultimamente già ci sono state delle scese in campo 5 Stelle che esprimerà una sua lista anche l'ex sindaco Aguzzi ha messo una sua bandierina su quel territorio come vedete insomma da ex amministratori queste già prese in posizione beh 5 Stelle sì io vedo che stanno facendo incontri e riunioni la cosa un po' diversa è questa mi pare questa di Stefano Aguzzi è fatto da remendo un po' cincinnato che era il dittatore romano del quarto secolo che era in campagna faceva il contadino insomma che secondo Tito Livio abbandonò l'arratro perché fu chiamato per difendere per difendere Roma pensare che una persona insomma che possa arrivare a Corri del Metauro dicendo io sono il salvatore tra l'altro visto che ha tappezzato tutto il comune di manifesti insomma con la foto sua sono il salvatore che con la mia esperienza insomma posso portare beneficio alla popolazione liberare non si capisce da chi insomma cincinnato c'aveva i barbari adesso i barbari non ci sono mi sembra che sia un po' un po' un po' sbagliato perché non fa in modo evita che nasca quello che serve insomma una consapevolezza piena da parte delle persone Quali sono i temi se si possono riassumere rapidamente sui quali ci si giocherà la propria elezione secondo lei La questione che va affrontata subito dalla messa di sicurezza delle scuole Ancora una breve di cronaca per la polizia spagnola la morte dello studente italiano Giacomo Nicolai 24 anni il cui corpo senza vita è stato trovato nel suo letto lunedì con un coltello nel petto è dovuta ad un probabile suicidio fonti della polizia di Valencia hanno indicato che l'autopsia ha confermato che molto probabilmente il giovane si è autoinferto tre colpi di coltello l'ultimo dei quali mortale e che si è trattato di una morte violenta di natura suicida è tutto per l'informazione occhio alla notizia torna domani domani mattina invece alle 7.30 c'è la rassegna stampa vi ricordo che al 338 49 68 250 potete inviarci come sempre le vostre segnalazioni grazie per averci seguito buona serata e a domani grazie a tutti